Ciao a tutti e ben tornati su Acqua Plants. L'argomento del giorno è, allestiamo insieme la scope QL, la quale in questione l'ho vinto grazie a Pettingloss e finalmente oggi sono riuscito a concludere tale video. In questo video vi mostrerò i vari passaggi che ho potuto fare durante l'arrestimento. Mi raccomando, dopo aver visionato il video, lasciate un mi piace qui sotto se almeno un pochino vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!